Signori vi faccio vedere come si tira il pomello della Opel Vivara tiriamo questo coso fino alla fine tirando forte così il pomello da cambiare perché è tutto rovinato adesso mettiamo questo qui vedete andiamo qua mettiamo qua dentro e dobbiamo agganciare questo qui e così schiacciate forte schiacciate forte affinché entra la marcia indietro entra ed è fatto ciao alla prossima